Parti! Adesso ce ne andiamo tutti in chiesa. Dov'è? In chiesa. Quale chiesa? La chiesa che dico io, ci sposiamo. Ma vi dice domani una verifica, questo è pazzo. Chi è pazzo? Ma che dici pazzo? Adesso vediamo se sono pazzo. No papà, ma fallo scendere! Don Fernando! Ci ha parlato con il mio papà. Sono Paffone. Cosa dici? Se tra mezz'ora passiamo, lo facciamo un bel matrimonio? No, ma quale matrimonio? Senti, ma tu te la vuoi sposare mia figlia o no? Ma io sì, però se mio padre non vuole io non posso. Non ti sposi mia figlia? Ho 17 anni, non posso. No, 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 si sposa, si sposa mia figlia. No, no, no. Si sposa. Se dico che lei si sposa, si sposa. Non lei, don. Perché faccio il tuo padre? Ho una chiamata sotto. Aspetti in linea. Io mi voglio sposare? Sono di cinesi. Muti! Che dicono? No, vabbè assurdo. Mi state sequestrando. Tu, tu, tu. E al porto? Diggi che, perfetto, abbiamo un amico. Ok. Ma dico mi nemo nemo nemo. Si sposa. Ok, dico ci sposiamo. No, che non ci sposiamo. Sto ipotizzando, ok? Ci sposiamo, abbiamo un figlio. Mio padre mi caccia di casa. Come cazzo facciamo? Non ha niente figlio. Cosa vuol dire? Avortisci. A posto, qual è il problema? Ma non ha detto questo? Fermati, fermati, fermati. Diggi qualcosa. 1, 2, fuori! Fuori!